RLB Radioattiva la notizia. RLB Radioattiva, buongiorno, sono Edoardo Maruca, Simona Gambaro, buongiorno e adesso perdiamo di amianto. Quante volte nel corso della nostra trasmissione abbiamo affrontato questa argomentazione, insomma, pericolo sempre più incisivo all'interno degli uffici, delle case private, degli istituti, talvolta anche, insomma, di plessi enormi. Questa volta la Regione Calabria ha accolto le richieste dell'Ona sugli incentivi per la bonifica dell'amianto. Finalmente, in concreto, passo avanti nell'eliminazione del rischio amianto in Calabria dopo le tante denunce dell'Ona di Cosenza. L'Ona, che lo ricordiamo, è l'Osservatorio Nazionale Amianto, costituito appunto a Cosenza nel novembre del 2011 e di questo, questa mattina, ne parliamo con il vice coordinatore dell'Ona, il geologo Beniamino Falbo. Buongiorno dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie. Allora, ci sono tre importanti richieste che sono state comunque prese ovviamente in considerazione non solo dalla Regione Calabria. Spieghiamo un po' meglio di che cosa si tratta. Praticamente noi facevamo parte come Ona Cosenza. Ona è l'Osservatore Nazionale Amianto. Noi abbiamo aperto qui a Cosenza, che poi è l'unica sede regionale, un comitato regionale diciamo. Sì. Ecco, e ci interessiamo di questi problemi. Naturalmente facevamo parte del PAC, il PAC e il Piano Regionale Amianto. Calabria, sì. Avendo fatto parte appunto di questo, presso la Regione Calabria, di questo settore, il settore ambientale per il Piano Regionale Amianto, abbiamo dato il nostro contributo, soprattutto per rivolto, soprattutto alla bonifica dell'amianto sul territorio regionale calabrese. Certo. Perciò il problema è di salvaguardare la salute dei cittadini. Sappiamo quanto naturalmente è maletico l'amianto per la salute di tutti i cittadini. Che cosa abbiamo insistito molto presso l'amministrazione regionale? Soprattutto per avere degli incentivi, perché se non ci sono questi incentivi, allora né i pubblici né i privati possono attuare alla bonifica dell'amianto. Certo. Abbiamo ottenuto, ecco, l'incentivo al 100% per quanto riguarda le strutture e gli delizi pubblici, perché naturalmente i comuni non hanno la possibilità di bonifica dell'amianto perché hanno scarse risorse finanziarie. Per quanto riguarda i privati abbiamo chiesto un incentivo in conto capitale, cioè da dire a fondo perduto, del 60%. Importantissimo. Siamo rimasti molto contenti, non solo perché l'hanno accettato, ma anche perché contemporaneamente qualche mese dopo l'INAIL, che è naturalmente l'istituto che si interessa della sicurezza dei lavoratori, per la prima volta quest'anno ha concesso un incentivo proprio per il settore della bonifica dell'amianto. E l'incentivo che ha concesso alle aziende per togliere l'amianto dai loro capannoni è del 65%. Importantissimo. Perciò noi quando abbiamo chiesto il 60% eravamo già in linea con quanto avrebbe fatto poi successivamente l'INAIL. Perciò non è una richiesta così campata in aria, ma è una richiesta per fare in modo tale che praticamente sia gli enti pubblici e sia naturalmente i privati possano attuare alla bonifica dell'amianto. Infatti l'INAIL praticamente ha fatto un bando e c'è stata molta partecipazione da parte dell'azienda per attuare alla bonifica. Volevo chiederle, dottor Falvo, se è stata fatta poi una sorta di screening del territorio, nel senso se è stato analizzato il territorio e quanta incidenza c'è relativamente alla presenza di amianto. O se esiste un censimento anche. Un censimento dei siti. Per quanto riguarda la conoscenza dell'amianto, noi nella regione Calabria l'amianto è stato applicato soprattutto prevalentemente per la copertura dei tetti, perché l'amianto è stato utilizzato anche nei mezzi di trasporti, treni, vagoni ferroviari, le navi, dappertutto è stato utilizzato e soprattutto nelle centrali. Però per quanto riguarda la Calabria è stato utilizzato all'ottanto anche più per i tetti, per cui praticamente si è fatta, la regione Calabria ormai già l'ha data anche ai comuni, si è fatta una mappatura dell'amianto, per cui conosciamo ormai quasi perfettamente quanto amianto c'è in Calabria. Da questi dati della mappatura ci sono quasi 11 milioni di metri quadri di tetti in amianto. Questa è la situazione. Una volta che la conosciamo, una volta che con il sistema del telerallevamento si è avuto l'opportunità di conoscere i siti e tutta la mappatura dell'amianto, ora il problema è della bonifica. Naturalmente che cosa deve fare la regione Calabria oggi come oggi? Deve utilizzare i fondi europei, che è possibile utilizzarli per la bonifica dell'amianto, perché l'Europa ha già previsto anche questo settore qua. Per cui praticamente essendo previsto nella programmazione regionale, allora bisogna attivare questa bonifica dell'amianto. Ecco, con i fondi europei. Noi la ringraziamo, ovviamente siamo contenti che ci siano questi passi avanti da parte dell'ONAR. Soprattutto siamo contenti che ci siano delle persone come quelle appartenenti alla vostra associazione, che se ne sono occupate raggiungendo questo bel risultato. La ringrazio tanto per avere partecipato alla nostra... Noi pensiamo, un'ultima cosa, noi ci stiamo impegnando affinché alla fine di questa programmazione 14-2020 ci sia la possibilità di avere finalmente una regione pulita e amiantizzata. Bravo. Sarà veramente... Grazie mille di... Grazie, grazie comunque. Buona giornata. Una buona giornata. Grazie. Grazie, buongiorno. Altrettanto arrivederci. Grazie, buongiorno. Grazie. 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 Grazie.